Allora, siamo qui con Gianluca Vitiello, migliore in campo della partita Schema 3, Palm Brau, autore di un gol oggi, oltre al gol, perché migliore in campo, Vitiello? Migliore in campo perché comunque non so se lo sai, ho dato 20 euro all'arbitro e l'ho corrotto, poi comunque non è un premio singolare, è un premio collettivo, tutta la squadra ha giocato bene, tutto il difensore Galliani, il capitano che ogni giorno ci fornisce cariche di barna e di polpette di tonno fatte da Daniela. Poi vorrei salutare soprattutto la ragazza del capitano e la ragazza di Galloni, vorrei anche fare un primo premio a un atto a Noschese che ha fatto la buonissima partita, vieni Noschese, salutiamo Noschese, poi soprattutto vorrei anche dare un caloroso abbraccio al nostro presidente Bernardo.